Bene, allora, buonasera a tutti. Sono lieto di svolgere anche quest'anno, come da tradizione, come questo mio intervento, questa mia lezione magistrale, all'interno di una iniziativa come quella organizzata dalla rivista Pandora, che sta diventando sempre più importante, sempre più matura, e che fa sperare abbastanza bene del futuro culturale di questa città, che di cultura ne produce tanta in ambito accademico e che, giusto, ne produce anche fuori dell'ambito accademico. E attraverso i giovani, non dimentichiamo che quando fu fondata la rivista Il Mulino, che poi nel corso dei decenni ha dato origine a una grande concentrazione di attività culturali, case editrici, associazione, cattaneo, i fondatori avevano intorno ai 25 anni d'accordo, erano altri tempi. Però è bene che anche noi oggi possiamo contare sopra delle energie giovani. Quindi, io svolgo una serie di considerazioni, come so fare io, cioè, diciamo, con orientamento filosofico, per non dire da filosofo, che è un po' troppo, con orientamento filosofico, su sviluppo o evoluzione. Io metto parzialmente in contrapposizione i due concetti. Vediamo, cominciamo con qualche definizione. Allora, in entrambi i casi si può parlare di progresso. Si può parlare di progresso tanto sotto la specie dello sviluppo quanto sotto la specie della evoluzione. E progresso vuol dire andare avanti, proprio etimologicamente, che vuol dire che abbiamo in mente un punto di partenza e un punto d'arrivo. In entrambi i concetti c'è questa idea. Punto di partenza e punto d'arrivo. Qual è la differenza, allora? La differenza, e anticipo quello che sarà lo svolgimento, la differenza è chi va avanti. Cioè, lo sviluppo, come lo intendo e come vediamo un po', perché lo intendo così, lo sviluppo implica che chi va avanti sia un soggetto sempre uguale a se stesso. L'evoluzione, invece, implica che quel soggetto che va avanti cambi, modifichi se stesso. Adesso vediamo un po' meglio. Allora, evoluzione è è un termine che adoperiamo, viene adoperato di solito soprattutto nella biologia. Sotto il profilo etimologico, il verbo evolvo, cioè un'idea di muoversi, di un movimento, di un movimento circolare, o di un movimento di rotazione. Certo, sviluppo vuol dire, c'è l'esse, privativo, uscire da un viluppo, cioè districarsi, districarsi, districarsi. No, basta pensare ed essere finiti dentro un sistema di liane che ti tengono e tu ti muovi per districarti. esci da un intrigo. Tu sei già te stesso. Tu sei già te stesso. Ti devi soltanto liberare da impedimenti. Questo è il concetto moderno di libertà. Il più semplice concetto moderno di libertà. La libertà negativa, è una libertà dagli impedimenti. Ecco. Ed è, attenzione, è un concetto potentissimo. Perché vuol dire, se lo portiamo in politica, vuol dire l'essere umano lo so, l'uomo nasce libero e ovunque è in catene. che è una frase semplicissima che contiene tutto il progetto emancipativo della modernità. L'uomo nasce libero e ovunque in catene. L'ovvia conseguenza è dobbiamo svilupparci, toglierci da quell'intrico di catene che ci tiene bloccati. non dobbiamo migliorare. Siamo già a posto come siamo. Abbiamo dei diritti naturali. È un modo di ragionare potentissimo perché ti dà una enorme energia perché per l'appunto ti consente di tramutare il movimento sociale il movimento politico in un di coprirlo di presentarlo di giustificarlo con una pretesa di moralità. Cioè è giusto che io che sono perfetto ho dei diritti perfetti diritti soggettivi perfetti e me li vedo negare perché sono finito in una trappola perché sono finito perché sono ovunque in catene beh è giusto non solo lo faccio perché mi va di farlo ma è giusto che io lo faccia. La morale è con me al limite Dio è con me. Sottolineo questo perché perché questa idea che io ho citato Rousseau perché è il nome più spendibile ma in realtà quando avevo detto è il concetto moderno di libertà come libertà da impedimento stavo citando Hobbes io sono sempre uguale a me stesso devo semplicemente uscire da una situazione che mi tiene avviluppato l'uscire da una situazione che mi tiene avviluppato è lo sviluppo quando sono avviluppato sono sempre io ma sono al minimo quando invece mi sviluppo sono sempre io e sono al massimo non cambio i miei diritti sono naturali precedono tutta la questione non mutano che differenza c'è fra un essere non sviluppato e un essere sviluppato basta prendere Hobbes decide copertina 1642 c'è fra gli allora per un secolo è costumato fare delle copertine degli emblemi no lì fra l'altro in questa copertina decide non è il libro di Hobbes più più perfetto sotto il profilo teorico ma forse è stato per lungo tempo il più letto il più importante lì fra le altre cose c'è un un miserabile indiano d'America un nativo ma brutto ma magro palesemente malsano triste le a tutte le a tutte le a tutte proprio come dite a Bologna messo male ecco e sta su una colonna e sotto c'è scritto libertas eh quello è un essere sottosviluppato poco sviluppato perché è libero sta nello stato di natura c'è un arco per cui per mangiare deve uccidere tutti i giorni con arco e frecce qualche animale insomma è una vita precaria una società di individui sviluppati è una società che si è liberata dalla libertà cioè che si è liberata dallo stato di natura che è venuta si è tolta si è strappata di dosso tutto quello che ti impedisce di essere quello che puoi essere cioè come dirà sempre Hobbes nel nell'altro grande libro il Leviatano 1651 eh perché perché facciamo il salto dallo stato di natura allo stato politico perché ci sviluppiamo perché usciamo dai condizionamenti che ci impediscono di essere noi stessi pur non facendoci essere altro che dei noi stessi miserabili non è che non è il rapporto che c'è fra un bruco e una farfalla che è una metamorfosi no se è semplicemente un poveraccio rispetto a un uomo ben messo eh lo facciamo per godere dei frutti della nostra industria cioè c'è un'umana industriosità che fa sì che gli esseri umani siano ben messi possano essere ben messi però per fare questo bisogna uscire dallo stato di natura un essere sviluppato è un essere che vive dentro l'universo leviatanico della politica nell'ordine razionale eccetera eccetera noi non abbiamo cambiato di un millimetro questo modo di ragionare i paesi in via di sviluppo che cosa sono? sono inferiori a noi? sono diversi da noi? hanno una qualità diversa da noi? no sono semplicemente messi male ma hanno la nostra stessa dignità hanno un seggio all'ONU tanto quanto i paesi più sviluppati non ci interessa sapere qual è la qualità della loro cultura no noi sappiamo che hanno un PIL molto 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 basso sono sottosviluppati gli dobbiamo dare gli dovremmo dare il modo di mettersi bene e se vogliamo usare un criterio un po' meno brutale del PIL e usiamo l'indice di sviluppo umano beh anche qui sono tutte delle sono tutte delle grandezze quantitative l'indice di sviluppo umano è la media geometrica dopo essere stata la media aritmetica oggi l'ONU lo calcola come media geometrica di aspettativa di vita anni di istruzione di cui la persona può godere e reddito e mettendo insieme con appositi algoritmi queste grandezze si costruisce un elenco di tutti gli stati del mondo che viene ripartito di solito in quattro fasce no? Indice di sviluppo umano molto alto indice di sviluppo umano alto indice di sviluppo umano medio indice di sviluppo umano basso qual è l'idea è sostanzialmente appunto un'idea quantitativa da una parte e universale dall'altra universale cioè questi conti li si fa per tutti perché tutti hanno diritto di uscire da una situazione di sotto sviluppo ed arrivare a svilupparsi niente di male non stiamo dicendo che tutto ciò sia sbagliato qual è il nemico il nemico è ciò che ti avviluppa ovviamente il nemico è quello che ti tiene legato stretto ma poi concretamente qual è il grande nemico sono due i grandi nemici che corrispondono alle due grandi invenzioni della modernità lo stato e il mercato primo grande nemico la guerra civile comunque sia il disordine il disordine mortale secondo grande nemico la scarsità allora tutte le pratiche che vogliono sviluppare devono combattere scarsità e violenza scarsità e violenza scarsità e disordine e qual è il punto indiscutibile il soggetto che è sempre uguale a se stesso perché nasce con i diritti già fatti e finiti che devono essere implementati qual è la dimensione e questo dovere è un dovere morale come sentite ho detto dovere e qual è la dimensione su cui questo accade deve accadere è universale cioè non è che c'è una parte del mondo che ha diritto di essere sviluppata è una parte che invece se ne deve stare buona a fare la parte sotto sviluppata no universalità questa è l'idea forte della modernità non è uno scherzo perché qui qui dentro ci sta ci stanno le rivoluzioni che vuol dire proprio strapparsi di dosso le catene strapparsi di dosso le catene no quando qualcuno non ha più da perdere se non le proprie catene e ci sta l'impianto l'impianto capitalistico che sta sulla terra no quello considera la terra come come qualche cosa a cui va strappata la ricchezza che la terra custodisce avaramente che non ci vuole concedere e allora dobbiamo forzarla e noi facciamo questo scaviamo miniere facciamo dighe facciamo abbattiamo foreste la terra è il best hand questo per citare Heidegger cioè il fondo quell'insieme di energie di ricchezze che va va preso e consumato noi petrolio il paese è sviluppato quando ha accesso l'energia tutta la nostra civiltà si fonda sull'idea di sviluppo ma come vedete dentro l'idea di sviluppo ci stanno delle precondizioni logiche delle categorie che vanno sapute vanno ben tenute in considerazione cioè abbiamo l'idea di sviluppo è segnata da un forte attivismo quasi disperato cioè bisogna siamo qui siamo qui ci tocca non possiamo non non possiamo non grattare la terra non possiamo non sfruttare non possiamo non svilupparci che poi con questa coazione allo sviluppo la sal venga messo a rischio l'altro paradigma cioè la sicurezza anche questo è vero perché c'è ovviamente la corsa alle materie prime la corsa alle fonti di energia la corsa ai territori migliori però questa è la nostra storia moderna lo sviluppo dunque è soggetto è la pretesa del soggetto il soggetto vuole svilupparsi naturalmente dal 63 direi abbiamo sempre più duramente sbattuto contro i limiti dello sviluppo è chiaro che date tutte queste idee che stanno dentro il concetto di sviluppo e sono tutte proiezioni quantitative la prima cosa che viene da dire è in questo modo aumenti a dismisura il numero dei soggetti cioè la specie umana dilaga nel pianeta quando ero bambino io gli esseri umani erano un miliardo adesso sono otto miliardi è chiaro che l'oggetto così affannosamente così affannosamente inseguito dal soggetto l'oggetto si consuma il fondo di magazzino si esaurisce non c'è sempre energia rinnovabile è una è una sofisticazione ultra tecnologica il concetto di energia rinnovabile prima di pensare a quello abbiamo pensato a prendere quel che c'era e comunque le miniere non sono rinnovabili forse di rinnovabile c'è molto poco c'è un consumo abbiamo vinto la scarsità per svilupparci consumando il che ha fatto parlare subito fin dagli anni sessanta dei limiti dello sviluppo e ha poi fatto ha poi fatto a dire all'idea che i limiti dello sviluppo li superi passandoci sotto cioè la decrescita se è una questione quantitativa allora non c'è altro modo che darsi una calmata non avere come obiettivo la crescita ma passare a una decrescita controllata che che non passa che non passa perché è profondamente contraria a tutto lo spirito della modernità nessuno può sposare l'idea della decrescita politicamente non passa non passa niente di questa roba perché perché nel nostro piccolo siamo tutti faustiani oltretutto poi faust era certamente un teorico della volontà di potenza propria ma in accordo con la natura c'era ancora l'idea che ci si potesse scatenare appunto sviluppare scatenare attraverso il lavoro certamente ma che tutto ciò fosse un accompagnamento della natura concetto molto romantico ecco noi siamo faustiani senza l'idea di accompagnamento della natura anzi primariamente con l'idea che la natura è lì a nostra disposizione che tra l'altro è un'idea per buona metà cristiana adesso abbiamo un papa che sviluppa in modo molto potente e molto autorevole come ovviamente fa un papa sviluppa una corrente minoritaria del cristianesimo cioè l'idea della armonia uomo-natura anzi del soggetto custode della natura mentre invece il cristianesimo è stato di fatto interpretato come un messaggio di dominio dell'uomo sulla natura cioè il dovere dell'uomo non era custodire la natura il dovere dell'uomo era dominarla e farla fruttare tanto che una delle cause della guerra giusta contro contro i barbari del Messico cioè della colonizzazione cattolica delle Americhe era ma quelli è anche presente nella teorizzazione protestante ma insomma quelli scrivevano poco e agilano gli spagnoli hanno anche scritto e dopo aver eliminato tante cause che secondo che so uno come Vittoria erano cause sbagliate fra le cause buone invece c'era che quelli non non mettono a frutto non mettono a frutto e invece bisogna mettere a frutto proprio come obbligo l'ha detto no crescite e moltiplicamini crescete e moltiplicati cioè un'idea espansiva un'idea espansiva vuol dire che se il soggetto si espande l'oggetto si riduce mentre invece qui adesso c'è l'idea del soggetto che custodisce in armonia ma ripeto San Francesco è ovviamente forse il più grande ha dei santi quel che vogliamo ma insomma è certamente un elemento minoritario nell'enorme tradizione cristiana dunque si può dire l'idea di sviluppo non è neanche umanistica non è umanistica è umana molto umana e diventa molto presto noi siamo in una fase di ripiegamento ma insomma basta avere la mia età avere aver visto i telegiornali degli anni 50 e 60 era tutto progresso tutto progresso tutto progresso e progresso per carità eravamo da ricostruire quindi tutto progresso e il progresso era l'industria c'era una sorta di superba cecità noi non guardiamo le conseguenze facciamo e poi una diciamo amara disillusione cioè è adesso non solo abbiamo problemi ma non sappiamo non sappiamo che strada scegliere perché questa è l'unica strada è l'unica strada questa coazione alla crescita e qui qui cito da un libro che mi è caro molto criticato ma insomma dialettica dell'illuminismo la maledizione del progresso incessante è l'incessante regresso è un vicolo cieco più vai avanti più non ne uscirai più vai avanti meno hai le risorse per guardarti e per capire quello che stai facendo è una coazione non è più un agire una azione è una coazione naturalmente questo tipo di discorsi è altamente impopolare nei paesi in via di sviluppo i quali risponderanno ne parliamo poi quando siamo arrivati al vostro livello perché lo sviluppo è un diritto universale vagli a dir di no noi ci siamo sviluppati voi state buoni è ovviamente impensabile per cui la decrescita universale non passa anche perché i già cresciuti non sanno fare altro che voler ancora crescere e quelli che devono ancora crescere vogliono crescere vogliono svilupparsi l'ultimo stadio è tutt'altro che decrescita l'ultimo stadio è il transumanesimo cioè sostanzialmente l'uomo bionico l'uomo che ovviamente dentro queste idee di sviluppo come crescita quantitativa c'è ve l'ho detto un rapporto soggetto-oggetto estremamente strumentale cioè il soggetto domina l'oggetto l'uomo domina la natura e questo dominio al di là delle parole vuol dire tecnica ecco e vuol dire il progresso è progresso tecnico la scienza è per la tecnica scienza propter potentia quelle bacone e anche qui tutte le volte che qualcuno di noi per sua disgrazia deve farsi operare è ben contento che il progresso abbia prodotto gli antidolorifici e nuove tecniche di operazione e questo è ovvio questo è ovvio però è anche vero che l'universo tecnico è un universo che non è al servizio dell'uomo non è al servizio dell'uomo ci sembra al servizio dell'uomo in realtà la tecnica è al servizio o di se stessa o di qualcuno che la conosce la maneggia la manovra la paga perché per la tecnica devono essere fatti investimenti e gli investimenti possono essere fatti in n direzioni ma in realtà vengono fatti non in tutte ma solo in alcune eccetera transumanesimo vuol dire la tecnica la adoperiamo noi su noi stessi noi i soggetti siamo oggetto di noi stessi per cui ci miglioriamo ecco ci miglioriamo a furia di impianti di chip o di cose analoghe che fanno sì che l'essere umano cambi e questo è alla fine siamo alla evoluzione sì certo alla fine dello sviluppo c'è una evoluzione qui c'è qualche cosa di diverso tuttavia non particolarmente brillante né particolarmente appetibile si suppone pensare a noi stessi trasformati in qualche cosa di diverso grazie alla tecnica applicata su noi stessi del fatto che diventiamo per il 20 30 40% artificiali è è una prospettiva che viene definita transumana ma che è facilissimo definire disumana è certo è una evoluzione ma è un'evoluzione questo è il punto tutta interna è l'evoluzione come se la immagina qualcuno che riesce a pensare soltanto in termini di progresso quantitativo tu a furia di quantità secondo una dialettica elementare a furia di quantità a un certo punto arrivi alla qualità certo a forza prima prima cominci con fare l'auturazione dei denti e poi finisci col cervello pieno di chip certo c'è una bella differenza alla fine non si sa quando non si sa perché è è un tipico sofismo quando è che un piccolo mucchio diventa un grosso mucchio non c'è un momento però l'argomento del sorite il mucchio di grano fai cadere un chicco è cambiato no fai cadere due chicchi è cambiato no dopo una settimana è cambiato quando è diventato grande ma però certo non è più piccolo ma è un'altra cosa ecco un essere umano con un'auturazione dentale è un essere umano un essere umano con il cervello pieno di chip magari è un'altra cosa magari è meglio magari ha una memoria prodigiosa magari però chiaramente non ci riconosciamo credo in lui cioè a quel punto l'altra grande idea che abbiamo avuto per parlare bene di noi stessi cioè l'idea di antropocene cade perché quello non è più antropos l'antropocene è un'invenzione come si dice è una evoluzione autodiretta cioè è l'idea che la attività dell'uomo come specie va bene vecchia storia i soggetti in senso universale tendiamo come specie abbia la capacità non non solo di consumare l'oggetto ma proprio di modificarlo come se fossimo capaci di vivere in simbiosi con la terra una noi modifichiamo noi stessi e la terra noi siamo parte noi e la terra siamo parte di un movimento di evoluzione che nasce sostanzialmente dalla nostra capacità tecnica ancora una volta è un rapporto un passaggio di quantità a qualità una cosa è star lì con una vanga in mano a vangare la terra un'altra cosa è far esplodere la prima bomba atomica che non a caso viene adoperata come il punto zero quando comincia l'antropocene dalla prima esplosione nucleare cioè quando siamo capaci quando l'umanità tra l'altro vedete l'umanità mica tanto un pezzo di umanità comunque quando l'umanità è capace di produrre fenomeni su scala globale non più su scala modesta ridotta a misura d'uomo quando è capace di produrre effetti su scala globale l'antropocene bene dentro il concetto di antropocene c'è il concetto che l'antropos svanisce perché dentro quel concetto c'è anche il transumanesimo siamo tanto capaci di modificare l'ambiente che modifichiamo anche noi stessi come se fossimo parte dell'ambiente per cui c'è davvero una dinamica contraddittoria fine dello sviluppo i limiti dello sviluppo fine della specie uomo transumanesimo fine dell'età in cui l'uomo faceva evolvere la terra con la sua capacità ed evolveva insieme alla terra con la sua capacità vedete che alla fine c'è l'idea che il progresso da quantitativo può diventare qualitativo ma è sempre un'idea che produce la contraddizione rispetto all'idea centrale del progresso cioè alla fine se c'è un'evoluzione è un'evoluzione verso il non umano o il più che umano o il meno che umano per cui non preparare male del sviluppo lo sviluppo può diventare evoluzione sì certo però è un'evoluzione che ti porta al di là di quello che quando va bene quando va male lo sviluppo produce soltanto contraddizione limiti dello sviluppo ma se dovesse andar bene ti porta a essere qualche cosa che non sappiamo che cosa sia certamente non è più l'uomo come lo pensiamo a noi modestamente credo che tanto l'evoluzione nel senso di transumanesimo quanto l'antropocene siano delle belle esagerazioni che servono a scrivere libri ma che non descrivono la realtà allora al contrario la evoluzione è un'altra cosa cioè abbiamo detto è sempre progresso cioè c'è sempre un movimento che parte da un punto e va verso un altro il punto è che chi si muove cambia non cambia alla fine schiacciato dalle logiche del proprio movimento cambia sempre nel corso del movimento appunto evolve evolve perché ne parlo? perché perché una buona parte del pensiero filosofico non ha pensato lo sviluppo ma ha pensato evoluzione trasformazione vogliamo essere ancora più radicali? metamorfosi ha pensato il movimento non di un'unica forma che diventa sempre più potente ma movimento di molte forme che muovono l'una dall'altra non sto facendo non l'ho mai fatto non lo farò mai alcuna prospettiva irrazionalistica la differenza la differenza che c'è fra sviluppo ed evoluzione non è ragione sviluppo versus qualche cosa di superiore misterioso no 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 la differenza è fra quantità e qualità una qualità che non nasce da una accumulazione di quantità una qualità che evolve come vi dicevo sempre continuamente non per accumulazione e poi per catastrofe no dunque il punto centrale qui non è la modificazione dell'oggetto la affannosa continua coazione a elaborare sfruttare l'oggetto qui chi si muove chi è modificato è il soggetto di che cosa stiamo parlando facciamo facciamo un esempio siamo alle origini della filosofia cioè non stiamo parlando di strani personaggi minori l'esempio fondamentale Platone Platone ha passato la propria vita a pensare non lo sviluppo ma a pensare la evoluzione che consisteva in uno sviluppo talmente sottile e raffinato che passava di forma in forma cioè naturalmente c'era c'era un elemento un elemento autoritario c'era qualcuno che ti faceva sviluppare in senso evolutivo come il filosofo che cosa fa il filosofo quando gli va bene quando gli va male beve la cicuta quando gli va bene ti libera ti libera da ciò che fa sì che tu non sia te stesso allora uno dice beh ma è quello che ci hai detto prima no perché questa liberazione parte dal presupposto che il soggetto debba percorrere un cammino e che durante allora è il progresso perché durante questo cammino muta quando esce quando sta nella caverna è una certa cosa quando viene spinto non si sa da chi ma insomma viene tirato fuori diventa un'altra cosa tanto diversa da quello che sta nella caverna che quello che sta nella caverna non lo capisce più il filosofo il filosofo capisce ancora quello che sta nella caverna anzi ridiscende col rischio di essere malmenato deriso non compreso perché il filosofo capisce ma quelli che stanno dentro non capiscono il filosofo il filosofo ha mutato forma è un superuomo no è lui tra l'altro è uomo divino divino per quanto lo può essere un uomo e lo è in quanto è filosofo cioè in quanto si è trasformato non solo trasferito ma trasformato non solo ma in quanto filosofo non è per caso né per scelta ma per necessità che torna dentro a tentare di far evolvere quelli che stanno dentro è un diverso certo è un diverso ha cambiato forma però l'idea il rischio tipico il rischio tipico del concetto di metamorfosi o di evoluzione qualitativa cioè evidentemente ci sono i pochi evoluti i pochi che sanno il rischio agnostico cioè i pochi illuminati che hanno il diritto di governare sopra la massa diversissima no i pochi uomini che comandano sui molti non uomini Platone non c'è perché la evoluzione la trasformazione produce sì un essere diverso tanto diverso che chi sta dentro non lo capisce più ecco però questo poeraccio diverso scende di nuovo giù perché vuole farsi capire perché vuole dire a tutti venite fuori poi non vengono lo mettono a morte però l'idea della dell'elite illuminata che guida allora l'elite illuminata che guida c'è nelle leggi ma non c'è nella Repubblica le leggi sono un'opera tarda scritta nel pieno dello sconforto cioè quando il grande sogno filosofico della Repubblica che non è utopia cioè l'idea che tutti gli uomini possono evolvere prima evolvono i filosofi poi i filosofi fanno evolvere gli altri ecco quell'idea è tramontata allora sì lì nelle leggi c'è il il consiglio notturno dei pochi anziani savi che guardano le stelle poi dopo che hanno meditato comandano con le leggi nella Repubblica non c'è questo c'è dinamismo che non è progressismo c'è c'è un progresso c'è qualcuno che va da un punto zero a un punto molto lontano sì ma è progressismo no il progressismo è nelle teorie dello sviluppo qui non c'è progressismo qui c'è c'è l'evoluzione qui c'è il miglioramento dell'uomo che prende forme diverse voi direte perché ci annoi con Platone infatti Platone non vi può vietato annoiarsi con Platone prendiamo uno che forse capiamo meglio Dante è un cammino direi di sì attraversa la terra passa dall'inferno al purgatorio al paradiso sarà un cammino lo chiamereste progresso ma Dio anche nel senso che parti peccatore schiacciato angosciato depresso terrorizzato e arrivi arrivi che guardi Dio riesci riesci a vedere la perfezione di Dio capisci l'universo capisci la logica dell'universo è un altro uomo non è lo stesso che si è fatto un viaggio con uno stupefacente è passato attraverso le passioni più violente l'odio la ferocia è passato attraverso le passioni più dolci più amichevoli più liriche senza mai del purgatorio senza mai perdere il controllo di se stesso mai mai deviare gli piacciono le donne sì ma ormai non si fa più trascinare gli piace la musica sì gli piace la poesia sì ma gli piace l'amicizia sì ma va attraversata va attraversata va attraversata arriva il paradiso terrestre dove c'è l'uomo perfetto è un altro uomo è un altro uomo e non si ferma neanche nel paradiso terrestre perché va nel vero paradiso sarà un viaggio sarà una metamorfosi metamorfosi qui sì è partito bruco ed è arrivato farfalla è progressista Dante ma neanche per idea è un progresso quantitativo c'è alla fine c'è una metamorfosi soltanto per il peso della materia accumulata che a un certo punto sfonda e provoca una catastrofe ma neanche per il sogno c'è un continuo continuo raffinamento come in Platone c'era un continuo raffinamento posto in essere dal filosofo sopra tutta la città raffinata e così ciascuno poteva essere se stesso cioè poteva diventare quello che non era ancora qui cristianesimo è sostanzialmente mettere un filosofo nella coscienza di ciascun uomo qui c'è l'idea che puoi davvero cambiare 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 non accumulare Hegel beh prendiamo la fenugia dello spirito è precisamente questo cioè tu devi cambiare e non puoi non cambiare se non cambi resti la coscienza la coscienza poveretta non esiste da sola la coscienza ne incontra subito un'altra ed ecco che c'è il confletto servo signore ed ecco che da lì da quella da quel dolore viene fuori un sapere superiore poi quel sapere diventa mondo e diventa la ragione e poi attraverso la ragione che è polemus la ragione vuol dire la rivoluzione francese per Hegel ecco poi da lì attraverso quel dolore viene fuori un'altra verità che è lo spirito che cosa cambia cambia il modo la forma della comprensione di se stessi e del mondo alla fine non c'è niente di irrazionale niente di mistico niente di niente c'è semplicemente l'idea che il sapere si sviluppa sviluppando diverse forme della soggettività non dell'oggettività è il soggetto che è diverso non è il sempre uguale che accumula è diverso e questa diversità è certo è anche il lavoro passa anche attraverso la lotta il conflitto il lavoro tutto quel che volete però è diverso è il soggetto che è cambiato allora oltretutto l'altra grande considerazione da fare a questo riguardo che l'universalismo nella ipotesi della evoluzione è alla fine non è all'inizio il calice traboccante dello spirito l'umanità che si unisce lo spirito è questo l'umanità che si unisce in una rete di autocoscienza che non è il web perché il web unisce l'umanità in una rete non di consapevolezza ma di chiacchiera l'universale è alla fine la logica non è una logica che nasce universale cioè l'uguaglianza di tutti gli uomini dotati di diritti che pretendono di esercitare volontà di potenza sul mondo ecco no l'universale è ciò che ciò a cui si giunge attraverso la fatica ciò a cui si giunge cambiando pelle cambiando forma cambiando il modo di pensare a se stessi e al mondo è un modo diverso una cosa è l'intelletto una cosa è la ragione una cosa è il positivismo una cosa è la dialettica una cosa è il liberalismo una cosa è lo stato moderno interpretato in modo non liberale che non vuol dire autocratico vuol dire storico allora qui c'è eccetto guardate lo stesso c'è in Marx Marx è come dire un grande realista la potenza del suo pensiero è nell'analisi critica del mondo nel quale egli vive ovviamente ma è assolutamente consapevole del fatto che il comunismo sarà un'altra cosa tanto che non ne parla tanto che di fatto non ne parla non ci sta a descrivere quello che sarebbe o che sarà ci spiega ciò da cui dobbiamo svilupparci e allora c'è un elemento di progresso sì ma c'è anche un elemento di evoluzione con il 99% concentrato sull'idea che non devi pensare alla situazione finale pacificata in cui l'uomo sarà uomo e al mattino fa una certa cosa del pomeriggio va a pescare e la sera scrive poemi sarà un altro mondo sarà un altro mondo ma la forza la forza teorico-politica è nell'analisi critica di questo mondo però c'è anche in Marx l'idea che insomma c'è la preistoria e ci siamo dentro e poi ci sarà la storia veramente umana insomma non è un utopista non è un buonista e concentra tutto il proprio sapere su questa ultima grande manifestazione del progresso che è il capitalismo per tirarne per portarne alla luce le contraddizioni strutturali ma i comunisti non erano progressisti lasciavano il progressismo ai borghesi sono i borghesi progressisti i comunisti vedono la contraddizione del progresso poi la nominavano poco perché appunto bisognava far politica qui e ora bisognava organizzare costruire il modo per passare a un'altra forma d'esistenza se erano comunisti naturalmente abbiamo visto detto in un altro modo il concetto di sviluppo è tutto dentro è di matrice razionalistica individualistica o razionalistica il concetto di evoluzione è un concetto che ha a che fare col pensiero dialettico naturalmente entrambe come ho detto hanno dentro di sé l'idea di progresso cioè che si va da A dall'alfa all'omega però in modi diversi con una testa diversa naturalmente vi è anche il punto di vista che contraddice tanto l'una quanto l'altra posizione il pensiero negativo Nietzsche e Heidegger insomma mettono tranquillamente insieme tanto il razionalismo quanto il pensiero dialettico tanto il progresso quanto la metamorfosi dicendo no e fa parte dello stesso miserabile sogno moderno oppure occidentale cioè dell'idea che si vada dall'alfa all'omega dell'idea che l'agire umano abbia una qualche capacità di afferrare l'essere idea sbagliata idea impossibile l'essere non lo si afferra l'essere lo vivi ci sei dentro poi naturalmente Heidegger dice che solo lui sa fare questi ragionamenti Nietzsche no Nietzsche è ancora prigioniero solo lui viene fuori forse a fatica praticamente buttando via la filosofia buttandosi sulla poesia ma insomma l'idea è non si va non è vero non c'è progresso non si va da nessuna parte in questo modo non andate da nessuno nessuno va da nessuna parte crescono soltanto mostruose contraddizioni bisogna recuperare bisogna recuperare un modo di stare al mondo completamente diverso che nessuno sa quale sia naturalmente perché è completamente diverso su questa linea dopo alcune peripezie arriva anche mezza scuola di Francoforte il totalmente altro già dentro la dialettica dell'illuminismo che vi citavo c'è una una incapacità di di accettare le logiche del progresso tanto declinate in chiave razionalistica quanto in chiave dialettica che poi loro dicevano che dialettica è diventato positivismo anche il comunismo è diventato Stalin è diventato ma non poteva non diventare così perché era i soviet più l'elettrificazione e i soviet più l'elettrificazione vuol dire vuol dire che sei dentro con lo stesso mondo borghese che volevi che hai voluto distruggere criticare e distruggere sì certamente i soviet più l'elettrificazione sono un modo diverso di arrivare al progresso ma sempre lì sempre progresso e sempre condannati se credi che sia libertà ma è tutta una coazione è sbagliato il punto di partenza è facile dire queste cose era difficile dirle da parte di persone che erano autenticamente interne al marxismo oggi è facile dire questo oggi la quarta generazione della scuola di Francoforte dice quasi le stesse cose in modo meno drammatico ma insomma l'idea è tutta la modernità è accelerazione harmutrosa tutta la modernità è accelerazione il progresso vuol dire essere costretti a correre sempre più forte e che cosa perdi perdi quella che sempre Arnold rosa chiama la risonanza la risonanza diciamo l'aura avrebbe detto Benjamin perdi quella che Adorno chiamava la prossimità cioè vuol dire che il rapporto soggetto-oggetto non può più essere pensato come un rapporto soggetto-oggetto cioè come trasformazione dell'oggetto in concetto cioè come tecnicizzazione dell'oggetto vuol dire la coesistenza mimetica di soggetto-oggetto ti saluto vuol dire un altro modo di stare al mondo che facciamo fatica anche a nominare anche oggi siamo davanti a questo cioè lo sviluppo era una parola della potenza la potenza sviluppo vuol dire potenza evoluzione evoluzione era ancora meglio voleva dire splendore cioè arrivi attraverso forme sempre diverse arrivi a un risultato risultato splendente tante paradiso è tutta luce arrivi il calice spumeggiante dello spirito Hegel e le contraddizioni le contraddizioni che stanno dentro l'una potenza impotenza siamo qui che la la natura ci scappa da tutte le parti si ribella non riusciamo più a estrarne a sufficienza il nutrimento per la nostra civiltà più ne abbiamo di natura più precipitiamo nella scarsità e dall'altra le forme splendenti le forme splendenti sono le insegne luminose sono delle trappole tutto il neoliberismo era fondato dal lato soggettivo sull'idea che finalmente ti liberavi da tutte le le catene e cambiavi forma non eri più l'uomo massa l'uomo grigio l'uomo gestito dai burocrati quale quale era l'uomo dell'età keynesiana no l'uomo sottoposto allo stato allo stato sociale che lo amministrava no basta non sei più un numero adesso e adesso sei una un centro di energia sei un imprenditore di te stesso la potenza la potenza del neoliberismo sotto il profilo della sua legittimazione di massa era che mandava questo messaggio paranicciano per cui di una vera evoluzione una vera metamorfosi ti hanno fatto diventare un bruco ma tu sei una farfalla basta che ti liberi dai partiti dai sindacati dallo stato sei una farfalla voli libera non è stato poi c'è stato una sorta di controordine compagni siamo tornati della scarsità bisogna tornare a testa bassa a lavorare in qualche modo si può dire che lo sviluppo lo sviluppo nega la trascendenza è moderno per questo non c'è bisogno di alcuna trascendenza basta accumulare l'evoluzione invece è un continuo arrampicarsi su una dimensione che è superiore che tu vuoi far tua ma che non esaurisci praticamente mai se non appunto nel paradiso di Dante quando guardi Dio oppure nel fenomeno dello spirito quando alla fine chiudi il libro dopo aver letto il calice spumeggiante degli spiriti ecco ma tutta la strada è stata fatta perché ti sei arrampicato su un livello di consapevolezza cioè su un livello di forma superiore oggi chiudo oggi lo sviluppo ci ha portato un mucchio di bellissime cose e un mucchio di che non hanno che non hanno spostato molto la collettiva infelicità del mondo diciamo così non hanno spostato il limite dello sviluppo vero è questo che ripeto quando ti fai operare preghi Dio che quelli abbiano letto l'ultimo numero dell'ultima rivista di medicina e che abbiano imparato le cose per bene certamente che siano sviluppati è certo ma insomma questo è un discorso molto soggettivo ed estremamente utilitaristico l'umanità sviluppata non è meno infelice di quando non era sviluppata non è che lo sia di più non abbiamo cambiato molto quello che manca è la pace banale però salta fuori da tutte le parti questa storia e la pace di noi stessi con noi stessi che sarebbe la giustizia e la pace di noi stessi con la natura che è qualche cosa che non riusciamo a dire perché noi siamo abituati a pensare alla natura per sempre come al nostro antagonista non dico nemico ma antagonista cioè non siamo noi noi siamo un pezzo di natura che si crede diverso dalla natura pace fra noi pace fra noi e la natura queste cose questa dimensione la si raggiunge attraverso lo sviluppo punto interrogativo certo che sì ma attraverso quale sviluppo lo sviluppo di quale facoltà di che cosa ma probabilmente l'unico sviluppo che di cui abbiamo bisogno e che non abbiamo è lo sviluppo della compassione dove compassione vuol dire etimologicamente di riuscire a sentire insieme agli altri che è quello che non sappiamo fare perché la logica amico nemico è la più facile forse la più vera che non vuol dire la più autentica la più vera ed è quella che domina ancora oggi i rapporti fra gli uomini e fra l'uomo e la natura contro quella logica il salto nella logica della compassione cioè della fraternità della capacità di capire di sentire gli altri è qualche cosa su cui a cui bisognerebbe educare i bambini fin dalla scuola con realismo senza buonismi ma con realismo se ne fossimo capaci se l'avessimo dentro di noi l'abbiamo dentro di noi ma questo è il limite dello sviluppo è che non abbiamo sviluppato la compassione e con questo vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti